Ci troviamo vicino l'ingresso della stazione e come potete vedere alle mie spalle, una parte della recinzione è tenuta dal fil di ferro. Il punto che mette lungo i binari è praticamente accessibile a chiunque, proprio per l'assenza della recinzione. Tutti, infatti, possono valicarlo, raggiungendo facilmente i binari senza alcun controllo. Lo schifo che c'è, scusate la frase, che devo dire io? Anche la recinzione è stata tolta e molto pericoloso. Eh sì, no, c'è, le dico, magari ragione a lei, c'è uno schifo, uno schifo. Io che sono gelese, sono nato qua e ci sono andato da, sono cresciuto da bambino, ma ora vedo i ragazzini stessi. Ma questo ne dipende dal padre e dalla madre sempre. È stato completamente lasciato all'abbandono questo quartiere? Sì, ma è il comune, non lo so. Anche ne manca l'acqua. Quello della recinzione è solamente l'ultimo problema di questo quartiere, completamente lasciato all'abbandono dall'amministrazione. Come potete vedere, infatti, cumuli di immondizia si trovano dappertutto. Nella zona della stazione ferroviaria, intanto, sono sempre maggiori i disagi. Rifiuti abbandonati strade nelle aree verdi, illuminazione pubblica quasi del tutto assente e tante difficoltà per chi vive quotidianamente tra quelle strade, sono i limiti più evidenti. Nelle giornate di vento intenso, i resti lasciati dagli ambulanti del mercato rionale finiscono anche a molta distanza tra le abitazioni. I residenti in più occasioni hanno chiesto di dare maggiore dignità all'intera zona, anche attraverso la riattivazione della rotatoria stradale. Ad oggi, però, non si registrano passi in avanti. Dopo aver attraversato il passaggio pedonale, la situazione in via San Cristoforo è ancora peggiore. Qui è completamente privo di recinzione e i ragazzi scavalcano attraversando liberamente i binari. Tutto hanno scavato, tutto, tutto, tutto. Perché qualcuno l'ha messo alle rete, poi loro l'hanno levato e sono salite. Però qua è morta una ragazza 30 anni fa. Per questo hanno fatto questo qua, ma ci deve andare un schifo. E mi dico, perché sempre noi, esseri umani, siamo cattivi. Sporchiamo tutto. È una situazione molto pericolosa. Troppo pericolosa. Ma sicuramente qualcuno che se li frega. Togliendo questa recinzione è molto probabile che i ragazzini scavalchino e la cosa si faccia veramente... Non è che probabilmente scavalcano. È molto pericoloso. Troppo pericoloso. Anche se abbiamo un cavalcavia pedonale che ogni tanto io mi faccio due passi e la sprutto. Ma questo è troppo pericoloso. Però non si può fare niente perché i vandali ci stanno sempre. Come si fa? Non è che possono tenere una guardia che controlla. È quasi impossibile. Questo è pure vero vandalismo.